Scario parte 2 Riusciranno i nostri eroi? Staremo a vedere Iscariota Staremo a vedere Staremo a scappare Pasquale Iscariota Cosa pensi di Francesco? Cosa pensi di Francesco? E' tutto il bene di questo mondo No, assolutamente E' una bugia Però non ti muoverà a scatti Cosa pensi di Francesco? No, io dipendo su La musica dell'altro Non ti muoverà a scatti Non ti muoverà a scatti vuoi un po'? pure per me il caffè, grazie e un po' d'acqua e un po' d'acqua